Ma sarà d'Amsterdam, questo segno in Olanda, il divieto di striptease sembrerebbe di camminare nudi per strada. Questo è molto australiano, sembrerebbe un emio o uno struzzo. Sulla segnaletica, probabilmente a causa degli aggiornamenti che ci sono in continuo da parte della comunità europea, ha avuto delle inesattezze e delle incertezze. Guardi, si può sempre rimediare, non è un problema. Al momento, ad oggi, l'unica consegna che io posso farle è di quest'auto. Segnali del genere, mi pare strano che non mi dica, cioè una cosa del genere, avendo una patente da questi tanti anni. Io al limite le consegno anche queste, che sono i nuovi, gli aggiornati sono tre mesi fa. Segnali stradali. No, ma sì, però, di nuovo, vorrei rivederla. No, 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 no. Allora, ci vediamo a settembre-ottobre. La macchina che le sto consegnando è di impegno a venire. No, non la accetto, la ringrazio, non l'accetto perché io la ringrazio molto. E se mi dice che poi nella parte principale c'è stata tutta la... non ho avuto problemi, credo non aver riscontrato problemi, non vedo perché nella seconda mi debba mettere lei in difficoltà in questa maniera. Lei è su una Kelly in camera Mercedes. Mi ha fatto piacere. Una camera è lì. Ragazzi, spesso lo sport è un gioco, guidare non è un gioco, quindi prestate la massima attenzione e occhi sempre ben aperti.